Bene carissimi amici, una buona serata a tutti voi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Partiamo con l'analisi estrazione del quadro estrazione di martedì 4 aprile, seconda estrazione mensile e siamo qui nel nostro appuntamento insieme con Suito per analizzare cosa è successo in questo quadro estrazionale. Come vi avevo annunciato, ad aprile cambiava la musica per quanto riguarda il 90 perché ad aprile il 90 doveva sortire proprio su quelle ruote dove io lo andavo ad indicare. E che avrebbe ripreso la frequenza, quindi vedrete come questo 90 si andrà a presentare con sortite multiple. Il mio 90 segreto a colpo secco centra il 90 a Firenze. Vi avevo dato tre ruote, Cagliari, Firenze e Roma, e abbiamo centrato il 90 secco a Firenze a colpo. Attenzione per tutti coloro che hanno la giocata, la giocata rimane confermatissima perché queste tre ruote erano anche le tre ruote di marzo, quindi questo 90 deve recuperare le sortite di marzo e dare quella di aprile. Quindi siamo a quota 1, secondo me arrivano almeno altre due sortite. Quindi potrebbe ripetersi a Firenze e arrivare tra Cagliari e Roma. State molto attenti a quello che succederà perché il 90 segreto ha ancora da pagare. Quindi abbiamo vinto il 90 a Firenze, ma Cagliari, Firenze e Roma rimangono le ruote confermatissime per questo 90 segreto. Cagliari, notate come porta la favolosa Spio 84, quindi che conferma Cagliari-Palermo, accompagnata dal 20, sono due grandi segnalatori del 90 uniti in posizioni consecutive. E poi abbiamo il 19 di cadenza 9, isotopo al 69 di Bari, cadenza 9. Anche Bari rimane ruota fortissima perché oltre ad avere questa cadenza 9 isotopa, porta il 9, il 63. Già il 9 di per sé porta il 90, ma unito alla figura 9 diventa ancora più forte. Quindi Bari-Cagliari ruote micidiali. Quindi a seguire Cagliari-Firenze-Roma, a seguire c'è Bari. Quindi ruote e ruote molto potenti. Notate questa cadenza 0 tra le ruote di Cagliari-Firenze 20 e 90 che ci porterà al 90. Ho ripetuto a Firenze, ho sortito a Cagliari. Quindi state molto attenti. Notate a Firenze come si presenta il 48, che è una spia del 90. Abbiamo questa doppia cadenza 8 interessante, oltre al vertibile 84-48 in diagonale tra le ruote di Cagliari-Firenze. Quindi questo 90 a Firenze è solo l'inizio, è solo l'inizio, ne vedremo ancora delle belle. Quindi state molto attenti. Chi non ha preso i due ambiti del 90 segreto lo faccia adesso. 3-4-8-7-5-4-7-7-1-5 via WhatsApp per aderire alla modalità vincita avvenuta del mio 90 segreto. L'ho fatto vincere a colpo per il mese di aprile dandovi tre ruote micidiali, è uscito a Firenze. Ma lo vinceremo ancora. I due ambiti sono bellissimi, quindi massima allerta. Anche Roma. Notiamo Isotopia con Bari, questo 9 è meraviglioso. Questo 9 di Roma, Isotopo con Bari, bellissimo. Quindi attenzione assoluta, anche questi due numeretti uniti sono molto belli, 4 e 1. Quindi massima attenzione alle ruote del mio 90 segreto. Se andiamo indietro nell'estrazione, vi avevo fatto vedere come Firenze e Roma rimanevano ruote fortissime. Se andiamo indietro, vi avevo fatto vedere, intanto Firenze portava la tripla cadenza 6, la cadenza 6 porta sempre il 90. Qui ce n'erano tre. Qui ce n'erano tre.